Cari figli, come la natura dà i colori più belli dell'anno, così anch'io vi invito a testimoniare con la vostra vita e ad aiutare gli altri ad avvicinarsi al mio cuore immacolato, perché la fiamma dell'amore verso l'altissimo germogli nei loro cuori. Io sono con voi e prego incessantemente per voi, perché la vostra vita sia il riflesso del paradiso qui sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver guardato il video.